Oh, quello è House Flipper. Oh, c'è anche la cracca. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come scaricare la demo di Force Poker. Quindi provare questo mega giocone che veramente costa 80 euro. Ma chi è che dispende 80 euro per questo gioco? Almeno lo proviamo, proviamo la demo e speriamo anche che esca anche la versione, capito, versione gratuita. E quindi questa è la demo, ragazzi, se volete scaricarla c'è la demo qui sotto. Basta scaricarla, aggiungerla alla libreria e niente, pesa più o meno 40 giga. Quindi rispetto ai 150 giga per l'intero gioco, scaricate 45 giga e provatelo, vedete un po' se vi piace oppure no. Quindi spero tanto di essere vi stato d'aiuto, quindi come provare la demo di Force Poker. È un gioco veramente pesantissimo, veramente pesantissimo, già per la richiesta della RAM 16, nei requisiti minimi. E nel... tutti i requisiti di sistema, proprio in tutto, mamma mia, quasi 24 gigabyte di RAM. Quindi grazie a tutti per questa visione. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao.